Allora, mi chiamo Leone Rubini, sono dipendente di una multinazionale, sono impiegato di una multinazionale. Allora, è stato un problema che ho trascinato negli anni, dando la priorità ad altre necessità e alla fine era diventato un problema non più curabile con le cure tradizionali e quindi sono dovuto ricorrere all'implantologia. Ho saputo di voi facendo ricerche su internet e sono stato prima in Croazia, a Labin, dove ho ricevuto dei preventivi, ma con preventivi che riguardavano lavori non della stessa importanza, comunque non una riabilitazione completa di ambedue, ma lavori che riguardavano una parte e il restauro di altre parti. Comunque in ogni caso non era la stessa tipologia di operazione che avremmo fatto qui, che abbiamo fatto poi qua in Moldavia, chi se no. Siete stati molto bravi, siete stati molto bravi, a livello medico incomparabili e a livello umano, soprattutto il supporto umano è stato notevole. Essere qua in Moldavia non è un problema perché la città è molto accogliente, ci sono un sacco di luoghi da visitare, proprio ieri siamo stati alla cattedrale, è tutto molto bello, si mangia anche bene. della Moldavia, soprattutto il popolo moldavo, poi il vino è anche buono e l'accoglienza, ripeto, è stata veramente al di sopra di ogni aspettativa, è stata davvero un'accoglienza molto calda. Consiglierebbe ai suoi amici il nostro Policlinico? Senza dubbio, senza dubbio lo consiglierei anche perché, ripeto, la qualità medica è di altissimo livello. Il dottor Vadim è un medico davvero preparato e non voglio essere generalista, non voglio essere, comunque ne ho visti pochi di medici così in Italia, per quanto mi è dato di conoscere.